Il Dottor Leone L'Opera di Roma porta in Germania una ventata di melodie italiane. Monaco, Prinzregente Theater. Sentiamo qui l'Aida. Due volte vero il trionfo dell'Aida, venuto dopo quello del Boccanegra a Wiesbaden. Hanno cantato la Barbato e la Minarchi, filiteschi e neri. Cori di Conca Regia di Frigerio. Direttore d'orchestra De Fabrizis. Verdi è mondiale e questi prolungati applausi ne sono la migliore conferma.